ciao a tutti e benvenuti al nuovo video del nostro canale op clan se non siete iscritti io un consiglio sulle iscrizioni e sul come dire seguire la pagina la farei e continuiamo il filone della diciamo delle ultime dell'ultima volta fondamentale quindi parliamo oggi ancora di export e soprattutto di come utilizzare degli strumenti molto semplici come in questo caso parleremo di google trend ma cercheremo di farlo in una maniera secondo me è un pochino diversa ora per chi non lo conoscesse credo tutto il mondo comunque google trend è uno strumento che ci permette di capire quali ricerche come dice ovviamente il payoff qua quali ricerche si fanno nel mondo basta inserire un termine di ricerca un argomento e poi lui ovviamente ci dice l'interesse e poi vedremo cosa vuol dire però l'interesse però prima di addentrarci non so se scorrete mai la pagina però è molto interessante perché ci sono tutta una serie approfondimenti come per esempio questo in primo piano che racconta un anno di ricerche quindi cosa viene ricercato su google e alcune altre specifiche parole e il tipo di comportamento che hanno ad esempio in questo caso il coronavirus e come si si comporta diciamo in determinate aree geografiche in questo caso l'italia però molto interessante secondo me è questa parte qui di tendenza recentemente ogni giorno questa parte qui cambia totalmente e secondo me è molto interessante per chi volesse andare a fare contenuti per esempio per chi volesse andare a ragionare su argomenti o su faccio un esempio pubblicità o quindi fare dei posizionamenti su siti che hanno questo tipo di argomenti in maniera che come dire si può razionalizzare che in quel giorno magari c'è più traffico quindi questo potrebbe essere uno strumento che si potrebbe utilizzare così poi sempre scorrendo la pagina molto interessante perché poi ci dà anche tutti gli anni quindi diciamo gli ultimi cinque anni in questo caso ma poi si può allargare ancora di più quali sono state le ricerche effettuate in maniera più approfondita ok questo è veramente un iper e super semplice presentazione iper rapida andiamo a vedere facciamo un esempio cerchiamo che facciamo un esempio banalissimo su come funziona in questo caso cerchiamo serramenti sul serramenti non metto altro il mio ok e cosa succede succede che google trend comincia a pensare in questo caso a tirare fuori dei dati e a mostrarci allora come si legge si legge con un interesse fondamentalmente da 0 a 100 quindi non sono ricerche come su google ads o sul keyword planner non sono ricerche quantitative ma sono ricerche qualitative cosa significa significa che ci dice il trend di ricerca 0 100 quanto potenzialmente quel tipo di parole chiave che ho inserito qui che voglio esplorare effettivamente ricercata su google allora vediamo un po di cose in velocità allora la prima è che intanto qua questo credo che anche qui si sappia molto bene no si può scegliere il paese del mondo e per questo interessante per l'export e dopo vedremo magari come utilizzarlo si può scegliere ovviamente l'intervallo temporale qui ci sono tutta una serie di date già messe poi c'è l'intervallo di tempo personalizzato che si può utilizzare è molto carino e secondo me viene utilizzato pochissimo tutte le categorie perché perché qui io posso andare a differenziare ci sia un prodotto per esempio che sta in due categorie e io voglio saperlo dal punto di vista come dire voglio clusterizzare meglio la categoria di appartenenza devo passare per qui quindi andare a sottosezionarlo ovviamente per avere dei dati migliori ed infine siccome è una cosa che veramente viene poco utilizzata è questa cosa cambia che cliccando ci dice quali sono le differenze nelle varie sezioni di google questo ovviamente il motore di ricerca poi c'è la parte immagini la parte news la parte shopping la ricerca di youtube vedremo un po di cose fra un attimino e come si possono utilizzarlo scorrendo la pagina mi dice ovviamente scelto il paese quindi tutto il paese di riferimento quali sono le regioni con una maggior in questo caso interesse per cui sappiamo che il flue veneta giulia lato seramenti è molto molto interessante per cui se io come sono in una regione che ha questo tipo di trend andare a parlare con dei clienti seramentisti e fare una serie di operazioni mirate potrebbe avere un senso perché il trend è al massimo ok anche qui posso sottosezionare posso scegliere la regione o la città ok poi la cosa che c'è sotto ovviamente è una lista per cui scende quindi decresce l'interesse basta ovviamente cliccare e c'è tutta la nostra lista delle regioni in questo caso che sono interessate poi molto molto utile secondo me sono gli argomenti correlati e la query associate argomenti perché appunto posso andare a creare in questo caso contenuti articoli post sui blog video che magari hanno questo tipo di argomenti e qua ci dice anche quanto stanno crescendo quindi impennata vuol dire più mille per cento e più 450 più 300 e a seconda di tutto anche qui decresce e secondo di quello che mi interessa posso andare a focalizzare la mia attenzione e poi ci sono ovviamente le quali associate per cui sono delle parole chiave che in questo momento hanno delle fortissime crescite come in questo caso trecissime elementi poi magari si può andare a vedere ok anche qua cliccando sui tre puntini posso andare ad esplorare il solo quel tipo di argomento posso aggiungere il confronto quindi ovviamente me lo rimette lassù oppure posso cercarlo su google per capire esattamente cos'è quindi strumento che come dire in maniera macro permette poi anche di andare a fare tutta una serie di sottosegmentazione ma abbiamo detto che razionalizziamo perché lo stiamo utilizzando per l'export per cui marketing in questo caso b2b faccio un esempio non tanto con una parola che sia legata al marketing b2b ma voglio fare un confronto per farvi vedere un pochino come funziona allora facciamo un esempio con in questo caso sempre cliccando sui tre puntini vado su modifica metto una delle parole chiave del momento ok nfp metto nfp e cosa faccio metto nfp anche qua perché voglio fare un confronto questo secondo me è un piccolo trucchetto che non so quante persone sappiano in questo caso ovviamente è tutto uguale no ho messo italia mi sono dieci mesi benissimo da qui cosa posso fare posso fare modifica filtri ok posso mettere in questo caso italia 12 mesi ok è però voglio sapere magari perché sono interessato ad un altro mercato facciamo l'esempio stati uniti quindi vado qui quindi faccio rivedere giusto se non si è visto tre puntini modifica filtri vado qui cosa faccio ritrovo la stessa cosa che ho qua ok e quindi cosa voglio sapere facciamo stati uniti vediamo se esce così programma america United States ecco stati uniti 12 mesi e faccio ok a questo punto ho il confronto ed è molto interessante perché qui posso sapere quindi nel blu il mio mercato in italia e che tipo di trend c'è quindi sta crescendo però guardate per esempio la come dire la linea e il grafico degli Stati Uniti quanto in realtà sta crescendo e qui posso cominciare a fare dei ragionamenti in questo caso ovviamente stiamo parlando di un prodotto diverso però se volessi fare per esempio sull'export posso fare per esempio modifica facciamo vino ok adesso faccio veramente una cosa iper mega macro inflazionata facciamo wine dopo posso fare adesso queste ovviamente sono tutte cose generali e qui posso fare un confronto fra l'Italia 12 mesi e in questo caso il vino in questo caso nell'America ok quindi posso capire anche qui poi di nuovo vado sotto e ho il mio interesse ovviamente linea blu per l'Italia con ovviamente tutte le quali associate sotto invece ce l'ho per regione in questo caso per i paesi degli Stati Uniti e ho anche tutto ciò che riguarda le impennate quali sono le parole chiave più interessanti come vedete qua in questo caso per esempio se sono un esportatore e magari scopro che c'è Epcot food and wine per il 2021 posso andare a vedere di nuovo vado a vedere di cosa si tratta e magari anche qui posso razionalizzare dei contenuti che prendono quel tipo di interesse Quindi ricapitolando abbiamo visto un pochino come si può usare e filtrare confrontare realmente qui ovviamente se voglio uscire in un altro paese faccio semplicemente aggiungo faccio lo stesso identico discorso posso fare tutte le categorie in questo caso ecco questo potrebbe essere un esempio quindi metto alimenti e bevande cioè mi interessa solo di questo comparto perché il vino potrebbe essere per esempio arredamento no? come dire vetrinette per vino o frigoriferi per vino ma qui io voglio proprio alimenti e bevande voglio capire meglio e anche qui come vedete cambia molto interessante calendario vino no? quindi sono in un periodo dell'anno in cui magari se volessi fare dei contenuti e sono anche nel mondo B2B un produttore un creatore di appunto cantinette piccoli frigoriferi portabottiglie eccetera so che magari collegandolo a un calendario vino potrebbe essere molto interessante perché potrebbe essere qualcosa che associa il mio brand a una determinata ricerca ultimo passaggio che vi faccio vedere che secondo me anche questo è molto poco utilizzato quindi ve l'ho fatto vedere prima ricerca Google e adesso facciamo una ricerca per esempio su YouTube quindi vado a vedere che tipo di ricerche ci sono all'interno del motore di ricerca di YouTube vedete come cambia completamente rispetto a prima? ok? cambia proprio il grafico il grafico è completamente diverso e questa è una cosa che molto spesso non viene utilizzata no? perché magari si dice ok ma su Google ci sono poche ricerche ok? andiamo a vedere se su YouTube cambia ok? perché anche lì no? mondo Google Ads posso fare delle campagne video e in questo caso per esempio scopro che in America c'è dell'interesse anche su YouTube poi dati in questo caso soprattutto le quali associate cambiano completamente ok? quindi spero di avervi dato qualche dato in più ovviamente l'ultimo passaggio banale è che questi grafici possono essere scaricati quindi esportati o condivisi in qualunque maniera basta cliccare per per condividerlo per esempio sui social ok? quindi Google Trend abbiamo capito un attimino come si può utilizzare per l'export e ovviamente per fare dei ragionamenti di crescita magari di interesse abbiamo sempre detto no? anche in altre occasioni che cavalcare i trend è fondamentale per sapere in anticipo dove andare a fare della strategia questo è uno strumento cardine secondo me interessantissimo da utilizzare anche nel B2B e in maniera un pochino più approfondita rispetto a quello che magari si utilizza normalmente bene grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao buona giornata